e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti nuovo appuntamento di fare calcio viola con andrea giannatasio che saluto ciao andrea benvenuto ciao ale eccoci buonasera a tutti allora mi raccomando lasciate like questa diretta questo video quando lo guarderete indifferita guardate tutti i video fatti domani cattomercato del celsi seguitemi su instagram e seguite anche il buon andrea su twitter avete link in descrizione oltre a trovarlo sul corriere dello sport lo trovate puntualmente in quel social allora andrea io ti ho chiamato ora un po il punto del degli affari le voci in casa fiorentina che si sentono io partirei magari c'è un ultimo ora c'è un ultimo ora che ha dato sky non è chiaramente niente di clamoroso però ci conforta perché dice che dice il collega di marzio che mandragora ha scelto la fiorentina quindi è una telenovela che che si conclude mancava soltanto il punto di vista del giocatore ed è arrivato in questi minuti credo che fino all'ultimo mandragora abbia auspicato un rilancio del torino che è una squadra nella quale si è trovato molto bene soprattutto con iuri c'è stato molto bene però poi sei sicuro che ti rinfranchi mi rinfranca perché mi ha tolto dal mio punto di vista lavorativo una bega perché sennò avrei dovuto scrivere per giorni quello che risultava a me cioè che in effetti il calciatore ancora non fosse convinto sapevo stamani stanotte su firenze viola ho scritto che avrebbe dovuto decidere entro stamattina o entro al massimo domani anch'io sapevo che oggi sarebbe stata una giornata importante non credevo così in maniera imminente però per fortuna è arrivata questa questa decisione poi può piacere o non può piacere mandragora ho visto che i social si sono divisi in questi giorni però insomma credo che sia un calciatore di temperamento di esperienza che ha il gol nel sangue che sa ricoprire un po' più ruoli quindi quantomeno questo questa telenovela è terminata poi se ne aprirà sicuramente un'altra perché noi senza casini non sappiamo vivere però intanto speriamo ci prendiamo questo sì di mandragora non so quanto convinto perché magari ecco se fosse stato convinto dalla fiorentina fin da subito avrebbe detto sì cinque giorni fa però alla fine poi è arrivato ecco diciamo che per quel che mi riguarda è una se se lui non è convinto è una non convinzione ricambiata mettiamolo così speriamo di cambiare idee entrambi cosa vuoi che ti dica ormai a me piace mandragora va bene diciamo che io mi sarei tenuto torreira tanto per essere chiare cioè torreira e la riserva amrabatte come l'anno scorso poi però la società l'allenatore mi dicono anche ha fatto le sue scelte bene vediamo che cosa chi è che gioca secondo te tra lui tra lui amrabatto oppure è una roba fluida aperta e partita e questo campionato è completamente diverso dagli altri perché queste partite compresse che per la fiorentina sono ancor più compresse perché ci auguriamo tutti ci sia il girone di europa league di conference league e porta obbligatoriamente l'allenatore a cambiare costantemente la squadra cioè tu giocherai realmente da agosto a novembre ogni tre giorni quasi ogni tre giorni cioè ci saranno tre quattro settimane in cui giocherai una partita a settimana ma se non giochi ogni tre giorni per cui sei sei costretto a a far ruotare la rosa e credo che il ruolo del playmaker sia essenziale in una squadra come la fiorentina per cui secondo me si alterneranno in teoria il titolare è amrabatte e infatti però non escludo che alla fine poi anche anche mandragora nei giochi parecchi ecco no ecco se c'è una cosa positiva al di là di quello che si pensa sul giocatore è che comunque amrabatta veramente una grande occasione di diventare veramente un perno di questa fiorentina con questa scelta di mercato no questo sicuramente sì 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 allora io investimento io non credo che la fiorentina durante questa sessione di mercato farà tanti investimenti cioè io mi aspetto per esempio dodò mi aspetto andragora e pare prat forse io non ho avuto ecco ecco volevo chiederti rispetto a dodo e jovic come siamo messi ieri sera lecce era sentito di un possibile rallentamento ma non credo su jovic su questi due come siamo messi che sono due colpi per me ecco mi fomentano di più mettiamola così no jovic ognuno ha le sue forze ma a me non è mai risultato alcun rallentamento assolutamente no quindi jovic arriverà a firenze martedì fra le visite mediche sarà pronto per partire per il ritiro quindi meglio di così non si poteva chiedere o almeno non poteva chiedere italiano dodò secondo me magari qualche giorno in più ci vorrà però le le distanze non sono tante tra lo schacter e la fiorentina si stanno riducendo via via e poi soprattutto anche in questo caso c'è il il punto di vista del giocatore che è fondamentale ha fatto capire chiaramente che vuole venire a firenze e quindi la fiorentina farà un investimento importante secondo me sopra i 14 milioni quasi 15 e quindi arriverà un giocatore interessantissimo mi dicono che in fiorentina come diceva rog in fiorentina reputino dodò più forte anche di odrio zola e ho parlato con tanti con tante addette lavori e se la fiorentina davvero prendesse dodò cioè ci sarebbe la fila di chi farà gli applausi alla fiorentina perché è un giocatore molto forte io lo conosco poco sono molto ignorante però mi fido di chi me ne ha parlato così chi così come mi fido di chi magari mi parla male di qualcuno e mi dicono invece che stavolta è un profilo ottimo top per la fiorentina non credi che anche quello di jovi ci sia un colpo finora un po domani scriverò un pezzo anch'io su fiorentina appunto io ti merito che quello di jovi ci sia un po se viene fatto ovviamente ma tu da questo punto di vista mi conforti un colpo un po sottovalutato cioè io penso se jovi ci l'avesse portato in italia una juventus una roma io penso che avremmo tutt'altra percezione invece anche all'interno del dell'ambiente fiorentina leggo un po sui social anche anche stamattina ho visto diverse critiche la formula ma come arriva ma perché non compriamo nessuno c'è non so il tuo percepito andrea ma sta arrivando uno che due anni fa è stato fatto cioè è stato comprato da real madrid due anni fa 67 milioni di euro era la prima riserva di benzema real madrid uno che all'entra ha fatto poco e fiamme voglio dire in quegli anni lì penso che è uno di 24 anni che se torna e ha tutto per farlo a mio avviso in un ambiente come firenze ai livelli che aveva l'entra stiamo a parlare boh di 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 una delle delle degli attaccanti più forti anche che ci sono in giro in europa con i numeri più più valide insomma non so mi sembra che ci sia un percepito un po un po debole su questo affare qua non credi che sia un po sottovalutato come eventuale colpo ma io faccio parte di quella schiera di persone che non è particolarmente entusiasta di questo calciatore perché le qualità sono indiscusse io lo voglio vedere alla prova a firenze dopo due anni abbondanti di difficoltà che ha avuto a real ma anche la seconda parentesi in prestito all'intract non è stata brillante e lo voglio vedere in un modulo dove secondo me lui non è che ha fatto mai faville perché lui era abituato a due punte e ha fatto la stagione migliore quando giocava insieme a un altro attaccante c'era rebic ce n'erano altri e poi la formula del prestito secco abbiamo visto quest'anno con odrio zola come è andata poi leggo a giro che ci potrebbe essere un un diritto di riscatto un obbligo di riscatto che a me non risulta assolutamente io penso con la fiorentina magari a fine stagione avrà tipo un un accordo un gentleman agreement chiamiamolo così anche a me per adesso stanno dicendo tutti che in teoria si va verso il secco ecco il prestito secco per ridiscutere un giocatore che ragazzi ha un ingaggio da complessivamente 5 milioni di euro la fiorentina fraverà il 50 per cento quindi non sei molto entusiasta eventualmente di sto fare avresti preferito altro io avrei preferito spendere 20 milioni per pinamonti molto molto banalmente è una posizione che io che io questa la rispetto assolutamente quindi c'è anche tu le tue le tue belle ragioni però io mi sarei io mi sarei tenuto blauvic l'anno scorso ecco e l'avrei portato a scadenza di contratto senza problemi non avrei avuto grossi problemi cioè tu avresti favorito la parte sportiva dicendo pur di averlo in casa e di sfruttarlo fino alla fine faccio tipo il milan e continuo a farlo giocare anche se non rinnova diciamo così sì 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 milan con che sia mente uno scudetto e con donna rumano scorso è arrivata la seconda quindi nei giocatori se sono professionisti e io non ho il minimo dubbio che blauvic fosse un professionista il minimo dubbio se i calciatori sono professionisti sono professionisti fino alla fine ha fatto una scelta adesso ha tanti soldi da investire anche se il presidente ci ha detto che non ne sono rimasti molti e però parte di questi soldi io li avrei investiti su un giocatore simile a blauvic quindi o scamacca ma scamacca costa troppo o pinamonti ecco dal mio punto di vista poi la ferentina ha fatto altre valutazioni rispettabili rispettabili sulle quali io non metto veti o punti di domanda perché gli ovvi ce lo voglio vedere e per fortuna avrò l'opportunità hai fatto due nomi per i quali c'è anch'io sono veramente innamorato oserei dire quindi è difficile essere in disaccordo anche perché per caratteristiche sia scamacca che pinamonti sarebbero per me perfetti per italiani più che altro perché hai un po la sensazione che con i ovvi ci possa essere l'esperienza di uno barra due anni invece con scamacca e pinamonti ti saresti comunque assicurato un giocatore tuo al cento per cento e magari anche con quella prospettiva che piace tanto a questa proprietà di rivendere il giocatore se si acquista valore mi sembra insomma non si è cambiato molto tra i precedenti proprietari e questi ma ci può anche stare perché le società si autofinanziano tutte però ecco se spendi 20 milioni per scamacca per 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 pinamonte ne spendi 40 35 per scamacca difficilmente ne riprendi di meno tra un anno due ecco io ho la sensazione quindi non è che fosse un vuoto a perdere avresti speso e investito dei soldi per andrea siamo pensa tu pensa tu siamo in 200 e ci sono 60 live quindi adesso io ti invito se sei d'accordo con me fare stiamo in silenzio facciamo un 20 secondi di silenzio perché questo merito o no questo merito a non lasciare la giusto sì certo allora 20 secondi di silenzio a riflettere bene fatto allora dopo dopo la pausa di riflessione ti pongo due domande due questioni importanti si abbiamo già parlato di mandragora che ce lo chiedono tutti in chat basta che ritornate indietro dopo ti chiedo di rispondere alla domanda di william giustamente se stessi anche tu hai dei riscontri e anche su prae altro nome di foggia diciamo amica al nostro di essere mi pare un uomo che fra me ha spesso cercato da quando è a firenze per la nostra squadra quindi rinnovo amrabat e situazione frae prego andrea ma amrabat non non mi risulta assolutamente che siano partite le manovre per il rinnovo anche perché si è vero scala nel 24 però c'è ancora un po di tempo secondo me lo vogliono mettere un po la prova quest'anno prima di capire di che pasta è fatto se riesce a fare il titolare di questa squadra perché per esempio l'errore che ha fatto questo secondo me può essere alcun errore l'errore che ha fatto questa società con vlaovic è stato quello di proporre il rinnovo di contratto quando aveva già fatto 20 gol con iachini e la purtroppo l'ha pagata questa scelta e su amrabat secondo me però se vuole aspettare comunque un pochino di di vedere se sarà in grado di leggere da solo il ruolo di centrocampo di play di centrocampo della fiorentina su prat io vi dico la sincera verità ho appreso questo nome da 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 di marzio di sky che è informatissimo ho chiesto conferme non ho ricevuto risposte quindi non è che ho ricevuto smentite o conferme non ho proprio ricevuto risposte quindi io anche anche noi che siamo dei 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 piccoli giornalisti rispetto a chi lavora sky ma quando proviamo a informarci non abbiamo risposto ci fermiamo e aspettiamo di vedere se ci saranno novità no be non è neanche la prima volta che ce lo accostano quindi diciamo che è un nome che può essere effettivamente effettivamente spendibile cioè a me non è che entusiasmi penso che nel momento in cui vai a prendere la mezzala di qualità per italiano ci possono essere nomi migliori però può essere realistico perché non è la prima volta ma si e se ne sente a parlare ma più caldo radè guarda ci ho fatto un pezzo su ferenze viola oggi è un direttore sportivo che molto abitudinario nel senso che poi torna spesso no su vecchi obiettivi o su giocatori che ha avuto alle sue dipendenze e con i quali quindi una diretta conoscenza sa che possono rendere in un certo modo e li riporta sotto la sua ala protettiva guarda se la fiorentina dovesse prendere mandragora e prat sarebbero il giocatore numero 11 e 12 della sua avventura fiorentina non soltanto con commisso ma anche con della valle perché ci metto pizzarro ci metto ci metto aquilani che aveva avuto a roma ci metto rosi ci metto lupatelli ci metto toni tutti i giocatori che ha avuto in giallo rosso poi ha avuto badel prima e ora borca valero prima e ora torreira quindi insomma sono tantissimi giocatori che che lui è tornato a avvagliare e per cui non mi stupisce ecco che si possa andare su prat che è un calciatore per caratteristiche poi molto simile a castrovilli dai diciamo le cose come stanno poi io ho visto che tu hai messo il cuore alla mia storia nella quale c'era mccallister con nico gonzalez perché saprai che ovviamente ho fatto i miei consigli per la famosa mezzala di qualità e ci avevo inserito anche il buon alexis quindi anche a te piace come come idea il buon mccallister ma è guarda credo che la fiorentina lo dicevamo anche prima no su 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 amrabate mandragora abbia bisogno di alternative serie perché italiano non può girarsi in panchina se vuol togliere viraghi e trovarsi terzice oppure magari se voleva togliere prima vlaovic si girava c'era cocorino ha bisogno a maggior ragione ora che fa l'europa di ricambi adeguati per cui ben venga anche ci ho visto una foto oggi al mare di cocorino devo dire di qualità che sta meglio di noi però è sia per sia per il conto in banca sia per le persone e i luoghi che frequenta e quindi dovendo giocare 23 partite in 90 giorni se la fiorentina farà la conference quindi se supera il playoff e ripeto hai bisogno di cioè per dire tu hai la cremonese l'empoli e il napoli ma tu col napoli poi permetti di far giocare chi ha giocato magari 90 minuti giovedì contro il rocca cannuccia della del del litte stein nel preliminare per esempio c'è il tuo discorso è vero però per esempio su terti vederlo un po di più non è che mi farebbe schifo però come come architrave di discorso il tuo è giusto nel senso che avendo tre competizioni e sperando di farle tutte e tre per arrivare fino in fondo o comunque per avere obiettivi comunque che non siano finiti a novembre dicembre ma che te li porti fino a maggio è giusto avere delle delle alternative di livello sicuramente questa è una cosa che bisogna citare ecco io volevo chiederti anche un'altra cosa se non devi aggiungere altro sul fatto della mezzala volevo fare un po il punto sulla situazione della difesa perché lì c'è da capire situazione milenkovich c'è da capire se sono cambiate delle valutazioni su quarta perché ho letto diversi giornali mi pare anche se non sbaglio ma non ma non voglio errare firenze dire che comunque si può puntare anche su quarta nel caso di uscita di milenkovich ecco ti chiedo magari se ci sono dei nomi per la difesa cosa si è scelto di fare cosa si farà valutazioni varie vai pure e aggiungi se devi aggiungere qualcosa ma io parto dal presupposto che che milenkovich al novantanove per cento andrà via perché comunque al di là del fatto che c'è l'inter sopra e prima o poi venderà qualcuno in difesa l'inter ma a me risulta che lo scorso anno quando la fiorentina ha rinnovato il contratto a milenkovich di un anno aveva sostanzialmente stipulato un accordo per il quale di fronte a una offerta buona l'estate successiva cioè ora il calciatore se ne sarebbe andato quindi le offerte arriveranno il calciatore in scadenza di contratto e non penso rinnoverà e il penso che il suo procuratore e che tutti ben conosciamo nel giro ampio di affari che che sta coinvolgendo la fiorentina è probabile che possa inserire anche l'accessione di milenkovich quindi io parto da questo presupposto chi arriverà ma sicuramente qualcuno perché numericamente serve un un centrale in più credo che dobbiamo stare tutti molto attenti e parlo anche della mia categoria sull'identikit del giocatore perché non puoi tu mandare via un destro e pensare di sostituirlo con senesi o con un titi che sono dei mancini devi prendere un destro quindi secondo me il nome di Marlon eventualmente il sinistro va bene se devi se se vai a sostituire per esempio Nastasic no allora a quel punto esce Nastasic mi prendo un sinistro che ho due destre due sinistri esatto per cui il nome di Marlon che abbiamo fatto per primi su Firenze Viola poi ho visto che ha trovato ampie conferme su su tanti portali e anche su Sky ieri è un nome che la Fiorentina sta vagliando proprio anche nella nella ampia trattativa per Dodò con con lo Shakhtar e vedremo che cosa succederà io penso che comunque un centrale dal piede destro arriverà sicuramente più che occhio a Nastasic che sono convinto sia destinato a lasciare occhio anche a Igor perché non credo che mancheranno le offerte non è nelle intenzioni della Fiorentina di venderlo però di fronte a una una buona offerta come sai nel calcio può cadere di tutto certo e per quel che riguarda diciamo l'eventuale giocatore in entrata ci si può limitare al piede cioè che se va via Milenkovic se si va quasi sicuramente su qualcuno di destro oppure anche magari età esperienza si cercherà un giovane secondo te per per ragioni di mercato oppure non è escluso che arrivi anche uno verso i 28 29 30 così la Fiorentina tranne Mandragora che è un giocatore che non ha mai fatto competizioni UEFA guardava un po il suo curriculum anche perché ha giocato Crotone Udine Torino non è che abbia fatto grandi esperienze però è un buon giocatore un nazionale italiano comunque nell'orbito della nazionale italiana ma con Dodò con anche Gollini per esempio con Pratt e con Jovic ha scelto di puntare per il momento su giocatori che hanno nel loro curriculum delle un numero interessante di di partite in competizioni UEFA eh quindi almeno venti trenta quindi io credo che questa sia ci farò anche un pezzo nei prossimi giorni sia una traccia da seguire cioè che la Fiorentina al di là di rimpinguare numericamente la rosa vuol puntare su dei profili mediamente di esperienza eh Marlon per esempio ha fatto la Champions lo scorso anno con il con lo Shakhtar non ha molta più esperienza di altri eh perché prima era alzassuolo però ecco è un giocatore che comunque ha fatto le sue esperienze anche in altri paesi oltre che in Italia e in Ucraina e poi vabbè Pratt ha Pratt ha veramente tante presenze in Champions in Europa League eh con con l'Anderlecht prima di di venire anche con l'Eister mi pare abbia fatto no a parte che lì non giocava sì sì no no ha fatto quasi dieci partite mi sembra nove con l'Eister l'altra volta Mandragora ha fatto una una presenza con l'Italia nel 2018 però ha fatto tanto Under 21 dal 2015 al 2019 eh sì Mandragora è effettivamente un po' l'eccezione di questo di questo spettro di identikit che la Fiorentina sta cercando nei suoi nei suoi giocatori nuovi però in linea di principio come vedi sono tutti calciatori di esperienza un po' come lo erano Torreira e Odrio Zola eh l'anno scorso che però sono arrivati un po' alle battute finali del calcio mercato invece stavolta la Fiorentina insomma deve preparare un preliminare importantissimo ad agosto si sta cautelando io l'ho scritto anche stanotte su Firenze Viola mi sembra che rispetto all'anno scorso dove ci fu la bufera eh Gattuso la Fiorentina si si ammossa con un ampio tempismo quest'anno ha rinnovato il tecnico e lo fa partire sereno il ritiro gli garantirà per l'inizio del ritiro Mandragora e Pratt e Jovic vedremo se anche Pratt non credo sia così imminente e vedremo se anche Dodò però indubbiamente arriverà con la rosa piuttosto completa già al doppio pre-day off di conference non è non è poco eh perché vuol dire insomma essersi mossi con tempismo e con chiarezza di idee in testa e se pensi che Grillis è saltato per un non nulla potevi anche avere un giocatore come lui. Guarda se arrivavano Grillis al posto di Mandragora, Dodò e Jovic adesso cioè prima di andare in ritiro per me erano parte il fatto di Torreira che un po' comunque resta qualche dolorino però se arrivavano questi tre era oggettivamente una una situazione nella quale essere estremamente fiduciosi diciamo che se arrivano Dodò e Jovic e sono molto molto contento per entrambi su Mandragora qualche riserva in più ecco da sto punto di vista qua ti chiedo un'altra cosa ti risulta che possa interessare Neu e Perez in difesa e eh se i discorsi con Grillis, Torreira ed eventualmente altri registi a sto punto con l'arrivo di Mandragora sono definitivamente cassati. Eh esatto Andrea guarda tempismo per te. Su Perez non ho novità sinceramente quindi non non aggiungo altro a quello che 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 sono i nomi usciti fino ad ora e su sì su Grillis sì cioè ormai la Fiorentina che ragiona sempre a coppie ha come coppia Amrabat Mandragora poi in realtà Grillis anche noi sbagliando perché spesso sbagliamo anche noi l'avevamo un po' pompato e dipinto come un play però in realtà è un giocatore che sta bene a due in un centrocampo a due e secondo me la Fiorentina cercherà qualche cos'altro a centrocampo eh magari una mezzala interessante che possa fare magari ehm molto bene la doppia fase eh che possa avere il passaggio ultimo per la per la fase offensiva credo che con Pratt non non arriverà per esempio Bairami ecco perché comunque l'investimento di Sky diceva ieri sette milioni di offerte dalla Fiorentina io credo che l'Ester ne abbia risultato una decina dal Torino mi sembra quindi mi sa che la Fiorentina dovrebbe rimettere mano al portafoglio e dieci più o meno era anche la richiesta dell'Empoli per per Bairami quindi eh magari arriverà qualche cos'altro mi viene in mente Amiri che era stato avvicinato nei giorni scorsi dalla Germania Amiri discretamente guarda cioè non lo butto qui non lo butto non lo butto c'è un sacco di gente con la maglietta con scritto Amiri ma quella è una marca molto importante esatto anzi aspetta visto che mi hai commentato facciamo un piccolo un picco una piccola parentesi extracalcio perché c'era uno che ti ha chiesto una cosa molto importante sul vino ti chiedeva se eri per l'Amarone il Sassicaia eccolo qua Amarone il Sassicaia o Brunello? Allora io come sai e come magari in tanti sanno ho eh vabbè il vino mi piace logicamente però eh il mio preferito è un vino leggero eh frizzante rosso quindi chiaramente il Lambrusco o o la Bonarda non non si esce ma il mio vino preferito poi mi piacciono anche tutti quegli altri di questi beh Sassicaia o Brunello sicuramente eh e se io ti dico che tra il vino e la birra preferisco la birra in che occhio mi sputo? No va bene va bene la birra piace molto anche a me però quella non filtrata o eventualmente tipo la Leffe che ha un bella componente maltosa e in bocca lascia un ottimo sapore ci sta ci sta assolutamente condivido ecco ti faccio diciamo un po' verso la chiusura eh ultima domanda per quel che mi riguarda poi se c'è qualcosa dalla chat o qualcosa che vuoi aggiungere anche tu fai pure allora ieri si è letto di cancellieri che è praticamente ad un mezzo passo un terzo di passo dalla Lazio oggi mi pare che avessero anche fissato le visite mediche già addirittura le ha fatte sì sì ecco quindi già già lì io ti chiedo non so se lo conosci aggiungo ma non potevamo comprarlo noi visto che per me magari adesso non è una priorità ma sicuramente verrà fuori eh una richiesta di italiano sull'esterno alto ha rinnovato Saponara per carità di Dio ma con l'uscita di Caleon penso che un quinto esterno quantomeno per andare a ricomporre i cinque italiano te lo chiederà la prima è quindi cancellieri una tua opinione e in secondo luogo visto che si parla di Torreira eventualmente anche in ottica Latteo sebbene loro siano già stati su quello dello Shakhtar che hanno preso lì che mi dimentico sempre il nome però ecco ti chiedo Marco Santonio ecco bravo sì Marco Santonio ti chiedo se te la se ti sei fatto un'idea o se te la senti di dirci qualcosa ma che cazzo è successo visto che la società diciamo per ora non ha fatto conferenze non ha rilasciato dichiarazioni cosa cazzo è successo nel vicenda Torreira Fiorentina quindi questo è cancellieri vai pure cancellieri la Fiorentina aveva seguito la nostra Luciana Magistrato su Firenze io l'aveva tirato fuori questo nome poi no 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 quando è che l'ha tirato fuori aspetta è due o tre settimane fa mi sembra ah ok perché io l'avevo fatto però complimenti anche a lei brava brava Luciana ma tu l'avevi fatto sulla base di informazioni o perché ti piaceva a te? perché piaceva a me ah ecco no noi il mercato ah lei proprio aveva messo aveva messo che la Fiorentina stava seguendo cancellieri non è che il mercato ah quest'avola avesse proposto chiedo bene no 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 il mercato noi va bene che spesso diciamo un sacco e scriviamo un sacco di cazzate però in teoria prima di scriverle è perché ci arriva la voce non perché ci piace ah ok ottimo ottimo insomma non è arrivato a me piacerebbe Scamacca o Pinamonti ma non continuo a scrivere che la Fiorentina vuole Pinamonti ah beh certo no no ma avevo capito che cioè che lei avesse fatto il nome come a dire questo è qualcuno che io seguirei capito come una specie di consiglio capito non come dire che lo segue anche se non è vero invece se aveva scritto che lo seguivano perché la Fiorentina effettivamente c'era sarebbe stato un ottimo colpo guarda lo ha scritto il 9 di giugno il 9 di giugno è un articolo delle ore 20 la Fiorentina è interessata a cancellieri ah no aspetta quell'articolo a cui tu fai riferimento è quello che io poi avevo anche condiviso sulle storie di Instagram assolutamente sì insomma poi com'è andata? Ci si è lasciati per strada? sai domande offerta non trovano magari la stessa lo stesso gradimento oppure anche il calciatore aveva altre pretendenti che lui preferiva quindi so che questo matrimonio con la Lazio è stato ampiamente voluto dal giocatore ecco questo sì non c'è nemmeno voluto molto per questo blitz di Lotito questo mi fa pensare che che il gradimento fosse altissimo e su Torreira esatto capito per quello e su Torreira ma io ho parlato con tutte e due le parti in causa la Fiorentina dice che è una scelta condivisa con l'allenatore che ha fatto pervenire come suo pensiero il fatto che non fosse più indispensabile c'erano state delle anche dei momenti un po' di tensione tra il giocatore e lo spogliatoio e allenatore dopo alcune brutte partite mi viene in mente quella con l'Udinese e quella contro la Sampdoria nel finale di campionato però io tendo a credere che essendo Torreira un grande giocatore italiano mi auguro un grande allenatore ma con soprattutto un passato da giocatore importante sono cose da spogliatoio che penso tutti possano aver vissuto quindi anche scene magari un po' più di strappo come quelle che ci possono essere state di solito vengono poi derubricate a sceneggiate di spogliatoio qui forse magari siamo andati un po' oltre e per questo motivo la società ha scelto di non riscattarlo quello che io ho sempre evidenziato a fronte di questa legittima come posso dire di questa legittima posizione della Fiorentina che noi registriamo e riportiamo ma allora come mai se tu hai deciso di non riscattare Torreira perché non era più indispensabile perché si era comportato male ma fino ai primi giorni di giugno hai provato a ottenere uno sconto dall'Arsenal ma poi anche italiano se ti ricordi era andato in conferenza dicendo che era un giocatore fondamentale per il presente e il futuro prima della Juve cioè è quello che non mi torna capito sul fatto della lite sul fatto che è successo qualcosa cioè anche perché cioè se fosse successo qualcosa veramente a livello di liti in quei giorni ma non pensi tu anche da giornalista che sarebbe venuto fuori immediatamente visto come siamo a Firenze noi come anche qui non voglio citare ma su Firenze e Viola prima della Juventus avevamo scritto di un clima piuttosto incandescente nello spogliatoio con un confronto molto acceso ai campini prima della Juve magari era proprio questo ma ripeto sono cose che capitano perché tu veramente se con la Juve non vincevi poi lascia fare che l'Atalanta l'ultima l'ha persa ma veramente tu rischiavi di non andare in Europa per delle scelte sbagliate della società innanzitutto perché hai venduto la Vici a gennaio hai preso Cabral e ti ha dimostrato che non era la stessa cosa ma anche perché hai sbagliato delle partite perché non è che ci voglia chissà chi per battere la Salernitana all'Udinese a San Dori va bene chiariamoci più o meno non prenderne quattro da entrambi ecco per cui hai rischiato di mettere a ripentare una stagione per delle scelte su più fronti sbagliate quindi il clima era di tensione inevitabilmente anche a me mi giravano le scatole perché un conto per me è raccontare un'annata della Fiorentina che fa l'Europa e un conto è raccontare un'annata della Fiorentina che gioca una volta a settimana mi cambia tutto io è normale ci possa essere un confronto però ecco si era chiuso tutto con quella settimana poi che c'entra non è secondo me un dettaglio che Torreira finita la gara con la Juve vittoria per 2 a 0 se torna in Europa Torreira non è nemmeno in campo a festeggiare era già negli spogliatoi c'era Cagliecon c'era Piontek c'erano tutti perché anche quelli che sapevi che sarebbero andati via lui era già andato negli spogliatoi nelle foto non c'è mai e questo mi fa pensare che che già sapesse qualcosa e quella panchina contro la Juve all'ultima giornata pare che che abbia fatto molto discutere perché in quella gara avrebbe raggiunto un bonus che poi non è stato raggiunto diciamo ora non voglio dare false speranze diciamo però magari abbiamo visto sai uno un anno fa diceva Lukaku torna all'Inter dopo un anno e ti pigliavano per deficiente non è che magari quella di Torreira puttacaso che da qui alla fine del mercato non si riesca magari lui non abbia offerte che gli interessano squadre che effettivamente si muono per prenderlo è una pista effettivamente chiusa per noi oppure una micro virgola di speranza e possibilità la tieni aperta no non la tengo aperta perché non si è lasciato bene con la società Torreira per essere chiari quindi mentre Lukaku comunque era un affare dal quale sia l'Inter che il giocatore ci avevano guadagnato no perché comunque è una cessione sopra i 110 milioni uno stipendio ricchissimo che Lukaku immagino abbia percepito al Chelsea ha fatto contenti tutti stavolta qua c'era un giocatore che voleva restare e l'ha fatto capire in 300 modi e l'allenatore e la società che invece lo hanno allontanato quindi non c'è modo secondo me di ricuscire ma lì Lapo io te la leggo così poi cioè secondo me è stato un tentativo per dire se va bene se non va a me capito cioè metto 7 milioni se l'Arsena mi dice di sì me lo porto a casa e vedo cosa fare altrimenti non vado tanto a rompermi i maroni per riscattare allora visto che ci hai detto di Torreira se vuoi se hai l'ultima flebile situazione se hai delle novità situazione portiere c'è chi chiede di Gollini Vicario questi profili qui ma credo che la storia col Torino sia destinata a a creare qualche problemino sul fronte portiere che un problemino secondo me è soltanto un bene che si blocchi da fare Milinkovic Savic perché a me non piace diciamo che se Mandragora ha avuto un'utilità è stata quella di bloccare Mandragora e forse anche Pratt perché Pratt è un obiettivo di mercato del Torino e quindi no io sinceramente vedo difficile che la Fiorentina torni a dialogare con il Torino con grande amabilità dopo questo primo sgarbo e forse anche un secondo che poi sgarbo la Fiorentina non ha fatto sgarbi ha agito legittimamente se il Torino non riscatta nei tempi prefissati né Pratt né Mandragora è legittimo che si inserisca un'altra società e il giocatore poi decide è come se Torreira va alla Lazio non è che la Lazio ci ha fatto uno sgarbo no infatti è solo dinamica di mercato quindi però ecco nonostante tutto queste ultime operazioni secondo me potrebbero guastare ancor di più i rapporti tra tra la Fiorentina e il Torino vorrei sommessamente ricordare che il presidente del Torino è Urbano Caio che è l'editore di RCS che è un gruppo editoriale con il quale la Fiorentina pessima non è in buonissimi rapporti diciamo quindi insomma ci sono tanti motivi per i quali anche la Fiorentina gradisce questo clima un po' di belligeranza la diciamo così commissa un imprenditore un capo di industria è uno squalo quando si tratta di aggredire altri imprenditori quindi il sapore del sangue magari piace anche a lui e penso altri profili tipo Gollini Vicario penso che penso che sarà Gollini eventualmente la prima scelta andiamo andiamo sulla trappe insomma andiamo sul capo della trappe devo dire che rispetto a tanti altri nomi che si sono fatti Gollini se devi prendere un portiere non mi dispiacerebbe per niente se vuoi su Zurkowski se ci sono novità cose lui è convocato per il per il pre-ritiro e presumo anche per il ritiro poi però so per certo che lui vuole restare a Empoli ma non perché sia innamorato dei carciofi o del gelato San Montana ma perché sta bene lì vuole completare il suo percorso di crescita lì e magari l'anno prossimo andare in un club più importante più che altro vuole giocare con continuità cosa che a Firenze non avrebbe sicuramente fatto e quindi sono convinto che lui sì arriverà qui a Firenze farà le visite andrà a Moena ma nel giro di non molto entrerà in un'operazione con l'Empoli che a questo punto non sarà quella per Bairami ma potrebbe essere quella per Parisi non credo quella di Viti perché poi sarà parlato anche di Viti io ho dei buoni uffici con con l'entourage di Viti e mi dice chiaramente che per quanto il calciatore sognerebbe di venire a Firenze anche a piedi lui che è di Scandici comunque al momento non c'è niente ma è vero che chiedono già 20 milioni per Viti è una cifra sparata così un po' 15-20 15-20 o comunque che cosa pensi di questo messaggio io penso sia stato il migliore che abbia ricevuto anche l'utente il suo allora salutiamo Assunta Giallo IKM grazie per il messaggio Andrea mi sembra che non che non ci sia altro da aggiungere abbiamo fatto il punto su tutto se vuoi fare una chiusura se c'hai cose che non abbiamo trattato novità un tuo auspizio o qualcosa che vuoi un giocatore che vuole mi auguro che sia un bel ritiro visto che parte tra poco e che ci andrai tu sì la seconda settimana e che Jovic smentisca magari qualche scettico dove magari ci sono anche io quindi smentisca anche me e ci faccia divertire un sacco perché ne abbiamo bisogno perché questa squadra si ha avuto una carenza nel giorno di ritorno quella del gol quindi serve indubbiamente che la Fiorentina ritrovi più presto un gol ad oro o che magari lo sia Cabral e poi magari Cabral fa un ritiro della Madonna e diventa il titolare di questa squadra tu sei un po' scettico sulla Feriovic io lo sono un po' su Mandragora speriamo che se poi le scelte definitive saranno queste della società che ci sia una una così che ci convincano di essere giocatori invece dei colpi importanti beh se vengo a Moena anch'io facciamo aperitivo con la lente va bene grandissimo altro mi sembra che non ci sia da aggiungere io ti ringrazio Andrea come al solito seguitelo tutti sui suoi social mi raccomando e che sono in descrizione quando vuoi siamo qui Andrea è sempre un piacere grazie mille a Forza Viola a te buona giornata ciao grazie a tutti ciao caro allora adesso resto un momento io perché se riesco non sto tanto perché allora vi faccio il riassunto della giornata vi faccio il riassunto della giornata perché io sarò alle 17 cioè tra poco vado da Pino Vaccaro poi stasera su Passione Fiorentina ci sarà Mario Sconcerti il nonno Mario nonno Mario Sconcerti stasera alle 21 e se riesco volevo farvi vedere una cosa ok l'ultima cosa vediamo se sono bravo con la tecnologia vediamo se sono bravo con la tecnologia perché ieri su Instagram vediamo qua se riesco a pescarlo da qualche parte vi ho calato vi ho calato vi ho calato la devastanza ragazzi vi ho calato la palpebra allora vediamo qua oh eccolo qua aspetta aspettate aspettate ce l'ho fatta allora devo fare condividi schermo ok e andiamo su qua ok attenzione aspetta che alzo il volume se no non si sente un cazzo ciao ciao Ale ci sente ancora si sente ancora questo rumore rettiliano ditemi se si è interrotto si è interrotto? ditemi se si è interrotto che ve lo faccio rivedere in un altro modo ok si è interrotto o no? si sente bene? ok va bene adesso riproviamo come possiamo fare? su Instagram? riproviamo su Instagram allora riproviamo su Instagram attenzione allora condividi schermo ok ciao Ale, ciao Canile, un abbraccio da Federico ciao ciao Ale, ciao Canile, un abbraccio da Federico ciao ciao Ale, ciao Canile, un abbraccio da Federico ciao ciao Ale, ciao Canile, un abbraccio da Federico ciao avete visto? adesso si sentiva bene perché da mona ho aperto il microfono in due parti e c'è stata quella però è casato anche quella interferenza lì è casato esatto il buon il buon federico chiese allora ragazzi niente abbiamo abbiamo fatto abbiamo detto praticamente quel che c'era da dire siamo stati con gianna tasio seguitemi per l'appunto su instagram e in tutti i da mente seguitemi anche sui social un caro saluto